ci eravamo lasciati esattamente un anno fa con la giornata di pisa pronta per essere vissuta purtroppo il covid oltre il resto ha bloccato anche noi e quindi abbiamo dovuto annullare anche quell'evento la situazione sembra non ancora migliorare quindi anche quest'anno non potremo ritrovarci perché assolutamente non si possono fare assembramenti però abbiamo pensato di non lasciare anche il 2021 senza un organ day senza un qualcosa che ci permettesse di ritrovarci di stare insieme anche se solo virtualmente ecco perché abbiamo pensato ad un organ day online un organ day che potrà essere vissuto in streaming anche da persone che non hanno mai partecipato magari per questioni di distanza ad un organ day vero e proprio sarà un organ day diverso ma lo spirito rimarrà sempre lo stesso avremo vari collegamenti con vari ospiti da varie parti d'italia ma vi posso garantire che saranno tanti luoghi e tutti molto interessanti non sarà il classico video in streaming a cui siamo abituati negli ultimi tempi sarà una giornata in cui vedremo delle curiosità vedremo un qualcosa di inusuale ci sarà l'organo certo come protagonista ma da un altro punto di vista ci sarà la musica ma da un altro lato quindi vi consiglio di non perdervi questa giornata e vi aspetto sabato primo maggio dalle ore 10 e 30 in diretta sui nostri canali sul nostro gruppo di riferimento amici dell'organo a canne oppure sulla nostra pagina youtube organ day desidero dedicare questa giornata alla memoria del nostro grande ugo leoni creatore ideatori dell'organ day che ci ha lasciati il 25 aprile 2020 alla memoria di ugo e di tutte le vittime del covid vogliamo dedicarvi questo brano di marco enrico bossi chant du soir canto della sera suonato dal nostro amico alberto tirrito qui all'organo di villa santa ci vediamo il primo maggio ci conto di trovarvi grazie a tutti 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 grazie a tutti